Ciao a tutti, DPCM del tutto incostituzionale. In questo video voglio, diciamo, portarti, farti capire perché il DPCM con cui viene limitata la libertà è anticostituzionale secondo, non secondo me che non sono sicuramente esperto in questa materia, ma secondo degli esperti costituzionalisti. E allora, vediamo da dove nasce tutto. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco, del quale trovi il link qua sotto. Un canale a cui credo molto e che mi farbbe piacere se ti iscrivessi. Inoltre ti voglio ricordare che martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23 farò un seminario online sulla legge dell'attrazione su questo canale. Felicità Benessere, per cui se vuoi partecipare devi semplicemente abbonarti e selezionare, tastina abbonati e selezionare il seminario online per poter partecipare. Allora, e veniamo al tema, veniamo al tema. Allora, intanto c'è Renzi che ha detto che il DCPM è uno scandalo costituzionale. Questo è un dato di fatto. Ma però, soprattutto, lo ha detto un autorevole costituzionalista, che è Antonio Baldassarre, che il decreto del Premier viola la nostra carta. E quindi è uno scandalo costituzionale. Baldassarre, Antonio Baldassarre, sostiene che limitare la libertà con un DPCM del tutto incostituzionale. Questo lo dice, l'ha detto sull'Andocronos, è anche un concetto già espresso su primato nazionale. Ora, perché è incostituzionale? A parte che c'è stata tutta una serie di DPCM. Il DPCM che cos'è? Il DPCM è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi un atto che fa conte, diciamo così, fa conte di sua iniziativa. E Baldassarre, ma anche Sabino Cassese, che è il Presidente Merito della Corte Costituzionale, afferma che il carattere fortemente limitativo, diciamo così, di queste misure, previste per contenere l'epidemia, dovrebbero passare attraverso una legge del Parlamento. Intanto ricordiamo che il Codice della Protezione Civile prevede che la durata di una sorta di emergenza non può superare i 12 mesi, va bene, questo è prorogabile per non più di 12 mesi. Mentre nulla di specifico si dice in ordine all'ambito dell'estensione dei poteri di intervento e quindi dei limiti di comprimibilità degli altri diritti. L'emergenza di fatto non è una guerra, perché non è possibile equiparare, come prevede l'articolo 78 della Costituzione, lo stato di emergenza allo stato di guerra. Perché se è vero che la Costituzione non regola lo stato di emergenza, è altresì vero che l'ipotesi di una pandemia, ipotesi come quella in corso, non può essere regolata, non può essere considerata uno stato di guerra fondamentalmente. Il governo, diciamo così, è ricorso allo strumento, al decreto legge per limitare la circolazione delle persone. Diciamo, però poi di fatto attraverso questo decreto legge ha dato potere a Conte fondamentalmente, perché il DPCM è un'ordinanza emessa dal Presidente del Consiglio, che tra l'altro dà delega anche ai Presidenti delle Regioni. Allora, perché dell'incostituzionalità secondo questi giuristi? Perché si ritiene, allora la corrente garantista ritiene incostituzionale la compressione dei diritti costituzionali dei cittadini, come quello di muoversi, eccetera, che avvenga attraverso un decreto legge, che è comunque una fonte normativa di rango secondario, ma soprattutto per delega del DPCM e successive ordinanze regionali. C'è una corrente, invece, che ritiene che il decreto sia parificabile alla legge ordinaria, però di fatto molti costituzionalisti aderiscono al pensiero più garantista e soprattutto aderiscono al pensiero del fatto che i poteri in mano a una persona sola dovrebbero essere dati, come prevede la Costituzione, l'articolo 78 della Costituzione, in caso di guerra. Questo è quello che viene sostenuto. Quindi, di fatto, diciamo così, il Parlamento non è stato preso in considerazione. Non è stato preso in considerazione. Quindi ci sono gravi dubbi, comunque, sulla Costituzionalità. Io credo, personalmente, al di là di tutto, che, non essendo assolutamente un esperto, però quello che voglio dire, come il mio pensiero, è che quando si vanno a limitare delle libertà così importanti per l'essere umano, come la libertà di circolazione, ma anche questo nuovo decreto, no? Dove un po' vai a, diciamo, cioè, quello che viene detto, puoi andare a fare alcune cose, altre cose non le puoi fare, i parenti sì, i parenti no, sesto grado, quinto grado, quarto grado. Allora, io credo che quando si vuole limitare in modo, per un tempo così lungo, perché adesso il tempo diventa lungo, quindi ci sarebbe stato tutto il tempo di fare una legge, di interessare il Parlamento, quando si vuole limitare le libertà per un tempo così lungo, bisogna necessariamente far, mettersi dalla parte della ragione comunque, cioè stare all'interno della Costituzione, non andare borderline, perché io credo che sfociare nella dittatura il passo è breve, il passo è veramente breve, e poi queste discipline vengono fatte in modo arbitrario, il DPCM è un atto amministrativo individuale, e non può prevedere limiti alle libertà costituzionali, se non c'è un qualcosa di legislativo, non si può concedere l'autorità a un unico cittadino, quale conte, di fare esattamente quello che vuoi. E poi ci sono delle cose arbitrarie, perché se concede alla persona di andare al supermercato, perché non concedi andare alla messa? Perché che differenza c'è se viene rispettato distanziamento sociale tra entrare in un supermercato e entrare in una chiesa? Per la Costituzione, ad esempio, la libertà di culto è un articolo della Costituzione, viene garantita la libertà di culto. Questo è un'altra cosa che secondo me è vergognosa e scandalosa, al di là di tutto, perché non puoi consentire alle persone di andare al supermercato quando la libertà di culto è un articolo della Costituzione che tutela la libertà di culto. Cioè, dobbiamo rendercene conto. Quindi, come fa un decreto a essere così? Adesso vediamo qual è l'articolo della libertà di culto, l'articolo della Costituzione, l'articolo 19, no? L'articolo 19 dice che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, perché non si tratta di riti contraere al buon costume. Ora, ci spiegassero perché si può andare al supermercato mantenendo le distanze, non si può andare in chiesa mantenendo le distanze. Per dire, no? Cioè, ci sono tutta una serie di cose che quando uno fa un atto limitante, cioè degli articoli della Costituzione, cioè limitano delle libertà per le quali delle persone sono morte. Cioè, ci sono i nostri nonni, per qualcuno i genitori, per qualcuno, che hanno lottato per la Costituzione, per avere sa carta costituzionale. E quindi non può essere violata così da un uomo solo che decide di violare la carta costituzionale fregandosene, cioè fregandosene di tutto, del Parlamento soprattutto, perché, come dire, il Parlamento è quello che dovrebbe legiferare, è quello che dovrebbe, perlomeno vai a chiedere un voto in Parlamento su questa cosa, poi spiega il criterio di scelta perché il supermercato sì e la chiesa no, cioè la chiesa in generale, le varie chiese in generale, perché questo è un articolo della Costituzione che lo prevede, quindi impedire di andare in chiesa è comunque un'altra limitazione di una libertà prevista dalla Costituzione, non è uno scherzo, ci sono persone che sono morte per la Costituzione. Va bene, lascia i tuoi commenti qua sotto di quello che ne pensi, come pensi di, cosa vedi, come vedi questa cosa e come pensi che sia stata violata la nostra libertà. Per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco. Ciao a tutti!